L'autunno è arrivato, ma perché non approfittare ancora delle serate tiepide che la stagione ci regala? Se volete apparecchiare la tavola all'esterno potete ancora farlo, l'unico accorgimento sarà di presentarla in maniera autunnale utilizzando la ceramica della linea Novità che ci offre colorazioni calde ed eleganti. Tra l'altro troveremo anche il color Senape che è di moda tantissimo in questo autunno. Un consiglio in più, per dare un tocco diverso, utilizzate una posateria dai colori dorati.